Buongiorno ragazzi, siamo sull'ultimo argomento della relatività ristretta, argomento teorico. Vi dico già che questo è un video teorico in cui troverò la formula dell'energia con un integrale. Quindi dovete aver fatto gli integrali, ovviamente il discorso qui è per ragazzi di quinta. Chi invece deve solo fare esercizi, dico già il risultato, così il video può durare 30 secondi. Nel senso che è possibile dalla formula della quantità di moto, che nel video precedente abbiamo visto essere diversa, tra Einstein e Galileo, perché in Einstein c'è il termine gamma aggiuntivo, ripeto che M0 è la massa a riposo, quindi la massa di un corpo, la cui massa viene misurata quando è solidale rispetto a noi e non in movimento. Bene, dalla definizione di quantità di moto deriva una diversa forma di energia posseduta dal corpo. Quindi l'idea è questa. Io ho una particella, inizialmente ferma, e a questa particella voglio fare cambiare velocità. L'unico modo è applicargli una forza. Una forza che applico, ok? E quindi questa particella assorbe tutta l'energia, che poi è il lavoro di questa forza, acquisisce una energia e quindi comincia a muoversi. Questo è il modo in cui nasce l'energia cinetica. Voi avete una particella ferma, applicate una forza a questa particella e la particella acquisisce una velocità ed un'energia cinetica. Quindi il lavoro di questa forza va ad aumentare l'energia della nostra particella. E infatti vedremo con due calcolini che, dalla definizione di Galileo, si va appunto a dire che l'energia di una particella a velocità v è appunto un mezzo mv quadro, che è una formula che voi avete imparato sicuramente a memoria, ma in realtà è un integrale. Invece, facendo la stessa cosa, andiamo a dimostrare che invece l'energia posseduta da una particella a velocità v è γm0c quadro. Per chi non seguirà il video dove ci saranno dei calcoli, quindi cosa va a scoprire Einstein? Che anche per una particella ferma, dove γ, vi ricordo, il γ di una particella ferma è 1, Einstein dice che una particella libera, quindi che non sente forze elastiche di gravità elettriche, una particella libera, per il solo motivo di avere una massa, possiede un'energia. E da qui deriva la famosissima formula, visto che γ fa 1, per particelle ferme, è uguale a mc quadro, che tutti hanno sulle proprie magliette, ma mi chiedo quanti sappiano cosa significa. Quindi intanto, è uguale a mc quadro è l'energia posseduta da una particella che è ferma nel nostro sistema di riferimento, altrimenti ovviamente c'è il termine γ. E quindi andiamo a vedere come si fa a trovare questa formuletta qui. Allora l'idea ragazze è questa, io voglio cambiare velocità ad una particella ferma, quindi la velocità deve andare da 0 ad una velocità che chiamerò velocità finale. E quindi ovviamente devo applicare una, seguite le freccettine, devo applicare una forza immettendo ovviamente energia nel sistema. Questa energia è il lavoro. Quindi il lavoro, qual è la sua definizione? È l'integrale della forza per la variazione infinitesima di posizione, quindi fds, la forza per uno spostamento. Ora, uso il secondo principio della dinamica. Cos'è il secondo principio della dinamica? Mi dice che la forza porta, ovviamente, ad una variazione della quantità di moto nel tempo. Questa cosa io l'avevo già detta, ma questa è semplicemente f uguale ad m per a, quindi nel mondo di Galileo, quindi tutti sanno il secondo principio della dinamica. Quindi semplicemente io al posto di f vado a scrivere dp su dt e andiamo avanti su questa strada. Perché? Ora utilizzo la definizione di velocità, perché notate questo pezzettino qui, questo pezzettino qui è ds su dt che non è nient'altro che la velocità, che ovviamente sta cambiando per il nostro corpo. E quindi cosa diventa il lavoro? Il lavoro diventa, vedete, v per dp. Quindi su questa cosa sono d'accordo sia Galileo che Einstein. Adesso però comincia la divergenza. E vedrete che i calcoli di Einstein sono più complessi, quelli di Galileo si risolvono in tre secondi. Cioè il colpevole della difficoltà è gamma. Da qui però nasce tutto. Nel senso che, ovviamente, questa è la strada sbagliata. Perché p uguale mv va solo bene se noi siamo a velocità non relativistiche. Quindi sostituisco per Einstein al posto di p gamma m0v. E al posto di p, per Galileo, m0v. Quindi vedete che, vedremo che quel gamma, che è l'unica cosa di differenza, crea disastri. Quindi il lavoro, adesso, che cos'è? È l'energia che io devo dare ad un corpo per farlo passare da una velocità nulla ad una velocità finale. Quindi questo ovviamente è un integrale definito. E perché qui, vedete, siamo passati da un integrale che era sempre definito, ma andava da una quantità di moto iniziale ad una quantità di moto finale. Adesso la variabile è cambiata, perché p l'ho scritto in funzione della velocità verde. Quindi in questo passaggio, al posto di dp, anzi al posto di p, io vado a scrivere per Einstein gamma m0v e per Galileo m0v. Ok? Vedete che l'unica differenza è gamma. Ora, nel passaggio successivo, faccio uscire m0. m0, ovviamente, è una costante, perché è la massa a riposo. E quindi, niente, ho fatto niente. Faccio uscire m0. Quindi fino a qua, anche se una legge in parallelo, non nota differenze. Ora ci allontaniamo da Einstein, voliamo su Galileo. Vi faccio vedere che il conto è già finito, perché Ora, io dovrei fare l'integrale di v in dv, che è come fare l'integrale di x in dx, e l'integrale di x è un mezzo x quadro. Quindi, ovviamente, verrebbe, qui ho saltato un piccolo passaggino, ma verrebbe m0 per mezzo v quadro definito da 0 a vf, e quindi valuto qui meno valuto qui. Quindi verrebbe m0 un mezzo vf quadro meno m0 un mezzo per 0 alla seconda. Però 0 alla seconda non c'è. Questo cosa vuol dire? Che all'inizio il corpo, vedete che questa formula, quindi, è un integrale, deriva da l'integrale di x in dx, che è un mezzo x quadro. E quindi, all'inizio, posso affermare che il corpo ha energia cinetica nulla. La sua velocità è 0. Poi io li somministro lavoro, e quindi l'energia finale, che è solo cinetica, sarà un mezzo m0 v quadro. Quindi, ho dimostrato, diciamo, che il lavoro che io do ad una particella inizialmente ferma, va in questa forma d'energia che è stata definita energia cinetica. Cinetica perché un corpo fermo non ce l'ha, e un corpo in movimento ce l'ha. Ora, e basta, perché Galileo è finita lì. Per Einstein, e poi chi vuole guarderà meglio questi passaggi, l'idea è la presenza di quel gamma, quindi faccio uscire m0. Adesso, ragazzi, io voglio utilizzare una relazione molto bella, che utilizzo sempre, che è, e poi capirete perché, la presenza di gamma v mi ricorda che gamma beta quadro, io lo posso scrivere come gamma quadro meno uno, in questo modo tolgo beta. Ma per farlo, ovviamente, prima devo scrivere v come beta per c. Quindi, se noi guardiamo questa riga, in quella successiva io al posto di v, semplicemente lo scrivo come beta c. Non faccio niente di terribile. Poi però, visto che c è una costante, e qui è moltiplicata, semplicemente la faccio uscire da tutto. Quindi questa c e questa c escono, diventano un c quadro, escono insieme a m0, quindi diventa m0c quadro. E così io sto già costruendo, vedete, questa ha l'unità di misura di un joule, quindi è già un'energia m0c quadro. Allora, e tra l'altro è, come vi ho detto all'inizio, l'energia che possiede un corpo fermo, ma questo lo scopriremo. E quindi, ragazzi, cosa rimane dentro l'integrale? Rimane beta in d gamma beta. Ora, io cosa ho detto? Intanto io voglio creare gamma beta quadro. Ok? L'idea è quella lì. Quindi, per crearlo, faccio una furbata che all'inizio non sembra essere molto intelligente. Cioè, dico che, ovviamente, qui davanti c'è un bel 1. E 1 lo vedo come gamma diviso gamma. Quindi, vedete che ho aggiunto questo pezzettino qui davanti, ma non sono impazzito, perché aggiungendolo, non perdetevi, adesso io riesco, guardando questo riquadro qua, quindi sto giocando in modo intelligente, se uno chiama, ovviamente, gamma beta x, vedete che abbiamo una quantità che è un x dx. Ok? E, allora, come faccio a sapere quanto vale x dx? Allora, parto da una cosa molto semplice. La derivata di x alla seconda, quindi dx quadro in dx, è 2x. Se io moltiplico di qua e di là per dx, viene che dx quadro, ok, fratto 2, perché poi divido anche per 2, dx quadro mezzi è proprio x dx. Quindi, questa quantità qua, che a casa mia è un x dx, lo faccio diventare un dx quadro mezzi. Quindi questo 1 su gamma sta qua, tranquillamente, non lo tocco. Però questo x dx lo faccio diventare, vedete, un dx quadro mezzi, è questo pezzo qua. E adesso faccio finalmente quello che volevo fare, perché io volevo creare il mio gamma beta quadro e vedete che finalmente me lo sono creato e quindi io posso dire che gamma beta quadro è gamma quadro meno 1 e poi questo esercizio è praticamente finito. Allora, guardiamo in alto. Perché adesso voglio cambiare forma a questo d gamma beta quadro. Allora, parto sempre così. Vedete? Voglio cambiare forma a lui e quindi dico la sua derivata rispetto a gamma quanto vale? Gamma beta quadro lo scrivo come gamma quadro meno 1 e la derivata di gamma quadro meno 1 in d gamma, visto che la derivata di una costante è 0, quindi è solo la derivata di gamma quadro, è 2 gamma. Cioè la derivata di x alla seconda meno 1 è 2x. moltiplico di qua e di là sempre per d gamma, a questo punto, d gamma d gamma e ottengo che sostanzialmente moltiplico per d gamma e se guardo alla fine di tutto ottengo che questa quantità qua che era difficile è semplicemente 2 gamma d gamma. Ok? Quindi, tutta questa quantità qua è un d gamma, 2 gamma d gamma. E allora, giocate del secolo, mi era rimasto questo gamma da nulla e vado a semplificare. 2, 2, gamma, gamma. Cosa mi rimane? m0c quadro integrale di d gamma che è un integrale, chiamatelo in dx, tanto quanto qui integriamo da una velocità nulla ad una velocità finale e questo, ragazzi, è l'integrale di 1 in d gamma che è gamma, ovviamente definito da una velocità nulla ad una velocità finale. Vedete la presenza di questo gamma come ci distrugge l'anima? E quindi, vedete, lo riscrivo, ho m0c quadro integrale di gamma e quindi semplicemente l'integrale di, è l'integrale di 1 in d gamma, l'integrale di 1 in d gamma è gamma come l'integrale di 1 in dx è x e quindi è m0c quadro per gamma che va da una velocità nulla ad una velocità finale. Quindi, ovviamente, come si fa? m0c quadro, cioè faccio valutato qui meno valutato qui. Ma la differenza è che gamma a velocità nulla non fa 0, fa 1 e quindi, vedete, diventa gamma che dipende che dentro di sé è la velocità finale meno gamma valutato a velocità nulla ma gamma è 1 fratto la radice di 1 meno v quadro su c quadro e se la velocità fa 0 gamma fa 1 e quindi ho finito il mio esercizio perché vado a dire che il lavoro è l'energia che io devo dare a un corpo che all'inizio ha questa energia vedete a velocità 0 per farlo arrivare un'energia del genere o per chi non ha capito semplicemente spostando questa quantità a destra vado a dire che gamma diciamo con dentro la velocità finale m0c quadro è uguale a l più m0c quadro cioè che l'energia che tu hai alla fine ok è semplicemente l'energia che tu hai all'inizio che è semplicemente un termine di massa cioè per il fatto che un corpo ha massa possiede energia più l'energia che tu dai dall'esterno per fargli aumentare l'energia ragazzi è questa la giocata cioè con questa cosa qui infatti dimostra che vediamo la differenza quindi tra Einstein e Galileo ripeto per Galileo all'inizio il termine che salta fuori dall'integrale dipende solo direttamente dalla velocità e a velocità nulla fa zero quindi si può dire che all'inizio una particella libera ha un'energia nulla poi tu gli dai energia identica nulla poi tu gli dai l'energia dall'esterno e acquisisce un'energia cinetica finale un mezzo mv quadro con dei calcoli un pochino più complessi giocando con le proprietà anche dell'integrale delle derivate ottengo che invece una particella all'inizio ferma che possiede energia per il fatto di avere massa possiede vedete lo chiamate zero perché è zero è l'energia a riposo cioè è l'energia di un corpo fermo vi ripeto che un corpo non è assolutamente fermo se io mi muovo rispetto al cellulare questo cellulare per me si sta muovendo quindi tutti i corpi possono avere energia a riposo e non dipende se sono fermi rispetto a te però se poi io a questo corpo fermo rispetto a me gli do energia dall'esterno la sua energia aumenta ovviamente e diventa gamma m0 c4 quindi si può dire che l'energia in generale posseduta da un corpo poiché questa è semplicemente una visione che vale a basse velocità ok l'energia che possiede un corpo è gamma che è la sua che contiene un termine legato alla sua velocità per questa quantità qua che non è nient'altro che la sua energia a riposo quindi l'energia che possiede un corpo è uguale alla sua energia a riposo per il fattore gamma nel prossimo video guarderemo come quindi diventa ma è molto semplice la formula dell'energia cinetica che comunque ritorna ad esistere ma non ha la forma un mezzo mv quadro in relatività ristretta ed il suo legame con la quantità di muoto e quello sarà l'ultimo video teorico che faremo di relatività ristretta